Allora, come si può uscire da questa battuta d'arresto così pesante? Volgiamo già lo sguardo alla gara di Foggia dopo un 1-5 casalingo. Meglio resettare tutto e pensare già al prossimo turno. Sì, ho detto bene, meglio resettare tutto. Ai ragazzi non posso dire, si sono impegnati fino all'ultimo, le responsabilità sono mie. Quando succedono queste situazioni, quando succede che la squadra subisce così tanti gol, vuol dire che anche io ho sbagliato tatticamente qualcosa, me ne assumo in pieno le responsabilità. Il primo momento delicato della stagione, perché c'erano stati questi due pareggi e poi questa sconfitta con il Brescia, però paradosso rispetto alle due gare precedenti, avete costruito diverse occasioni da rete, anche se molte sullo 0-3, però sullo 0-0 se Mancuso avesse messo il pallone dentro, forse ora staremmo a parlare di un'altra gara. Sì, Mancuso, Maras, tutti e due hanno avuto l'opportunità di passare in vantaggio, poi ha dato un rigore che secondo me non esiste, cioè non puoi dare un rigore del genere. Il secondo gol in fuorigioco... È vero, lo hanno confermato le immagini. Ci siamo trovati sotto di due gol, senza neanche saperlo, ma non per me, perché decisioni di episodi che poi vai sotto di due gol, è diventata una partita difficilissima. Ora ci sono due trasferte, Foggia e poi Crotone. A Foggia non ci saranno del grosso e gravion squalificati, dovrà riaggiustare e rimettere un po' in sesto il settore difensivo? Sì, valuteremo in settimana, vediamo un po' il lavoro che dobbiamo fare. Da martedì metteremo la testa sul campo, pensando alla partita che dobbiamo fare. Tornando indietro, c'è qualche scelta che non rifarebbe questa sera per quanto riguarda la formazione iniziale? Senza voler gettare la croce addosso su nessun giocatore, Canutè non è sembrato in una serata eccezionale? E' giovane, capita, magari c'è un po' di responsabilità, forse l'ha avuta fin troppa, probabilmente non si è espresso come lui di solito si esprime, però il ragazzo deve stare tranquillo e continuare a lavorare. L'ultima, mister, a fine partita, nonostante il 5-1, i tifosi della curva hanno chiamato la squadra sotto la curva, non accade sovente questo, i tifosi che hanno apprezzato comunque l'impegno che i giocatori hanno messo in campo? Sì, sì, ma hanno visto anche loro che i ragazzi si sono impegnati fino all'ultimo secondo, hanno dato tutto, perciò devono stare tranquilli, lo ripeto, la responsabilità me la prendo io.